Dopo le polemiche seguite dalle dichiarazioni del prefetto Caruso, responsabile dell'Agenzia per i beni confiscati, sull'operato degli amministratori giudiziari, qualcosa sembra muoversi sul fronte delle aziende. Parliamo in particolare della 6GDO, il tesoro di Grigoli. Due giorni fa il nostro direttore Pino Magnaci aveva incontrato i lavoratori a cui abbiamo dato ampio spazio nel nostro telegiornale. Oggi siamo ritornati a Castelvetrano per assistere all'assemblea dei lavoratori. Ieri infatti una loro rappresentanza ha incontrato Caruso, che ha promesso il massimo impegno per la conservazione dei posti di lavoro e per la più celere ripresa delle attività. I lavoratori hanno incontrato Caruso, che cosa vi ha detto, quali sono le prospettive? Allora, ci ha detto innanzitutto che ci sono due aziende interessate. La prima è in uno stato molto avanzato, nella quale sicuramente a breve ci sarà la conclusione della trattativa, speriamo a favore nostro. La seconda invece trattativa si trova ancora nello stato embrionale. in più ci ha detto che c'è la Lega Coop che metterà tutto il nuovo a nostra disposizione per un'eventuale trattativa, per la creazione di una cooperativa. Tutto qua. E qual è stata la reazione dei lavoratori? Beh, la reazione dei lavoratori sicuramente, almeno da parte mia, è stata molto positiva e speranzosa. Speranzosa nel senso che potrebbe darsi pure che venerdì, quando arriverà la risposta, speriamo, positiva. Sicuramente noi ci calmeremo tutti gli animi e raggiungeremo una tranquillità. Quali sono appunto i tempi? Venerdì vi aspettate una risposta? E poi quali saranno i tempi previsti? Vi hanno dato delle prospettive in questo? Sì, allora, venerdì ci aspettiamo una risposta definitiva. Ce la darà sicuramente l'attuale ancora consiglio di amministrazione. E speriamo poi che i tempi saranno breve per il passaggio da un'azienda all'altra azienda. Grazie.